Ben trovati con l'informazione di Teledeon, apriamo questa prima edizione del nostro giornale con l'aggiornamento sulle condizioni di salute di Papa Francesco che segue le cure e anche la riabilitazione, fa sapere la Santa Sede con l'obiettivo di tornare quanto prima in Vaticano. Il Santo Padre ha rivolto un pensiero ai malati allettati che non possono tornare a casa affinché possano vivere questo tempo di degenza come un'opportunità. Il Pontefice guarda sempre all'attualità, infatti ha inviato un telegramma di cordoglio per la morte dell'Arcivescovo Emerito di Kinshasa. I dettagli nel servizio di apertura. Papa Francesco continua a seguire le cure previste e la riabilitazione che gli permetteranno quanto prima il ritorno in Vaticano e quanto si legge sul bollettino quotidiano diffuso dalla Santa Sede che aggiorna sulle condizioni di salute di Bergoglio che dallo scorso 4 luglio è ricoverato nel Policlinico Gemelli di Roma in cui è stato sottoposto a intervento chirurgico per una stenosi diverticolare sintomatica del colon. Il Pontefice, fra i tanti ammalati incontrati nei giorni della degenza, ha deciso di rivolgere un pensiero particolare a quanti allettati non possono tornare a casa affinché possano vivere questo tempo come un'opportunità, anche se vissuta nel dolore, per aprirsi con tenerezza al fratello e alla sorella malati nel letto accanto con cui si condivide la medesima umana fragilità. Non è la prima volta che il Vangelo della sofferenza riempie le riflessioni papali. Lo fece San Giovanni Paolo II e adesso Francesco, che anche dall'ospedale segue l'attualità. Oggi infatti ha inviato un telegramma per la morte del cardinale Laurent Monsego Pasinia, Arcivescovo Emerito di Kinshasa. Chiedo al Padre di ogni misericordia di accogliere nella sua pace e nella sua luce questo esegeta, uomo di scienza, grande uomo spirituale e pastore intensamente dedito al servizio della Chiesa, ovunque è stato chiamato, le parole del Papa, evidenziando l'attenzione del cardinale ai bisogni dei fedeli. Un uomo pieno di coraggio e di determinazione, che ha dedicato la sua vita di sacerdote e di vescovo all'inculturazione della fede e all'opzione preferenziale per i poveri. Ha così incarnato la missione profetica della Chiesa. Nel telegramma il cardinale è definito anche come uomo amante della giustizia, della pace e dell'unità, che si è profondamente impegnato nello sviluppo umano integrale della Repubblica Democratica del Congo, per cui è stato una grande figura, ascoltata e rispettata della vita ecclesiale, sociale e politica della nazione, e si è sempre prodigato per il dialogo e la riconciliazione del suo popolo. Il suo contributo è stato significativo, conclude il telegramma, per il progresso del Paese.